Coltivare passo dopo passo un percorso inaspettato valorizzando i giovani e sempre però dietro l'angolo quell'insidia delle squadre in difficoltà Amici di Sporticili ciao da Salva Geraci siamo live dal Giorgio Mataranga e Castellamare Aspra 17esima giornata del Girone A di eccellenza siciliana Tutti comodi? È iniziata Castellamare Aspra subito con questo tiro Castellamare ha 25 punti sono due i punti di distacco dalla Super Giovani a 27 al quarto posto Va il passaggio per Ramusso che va fino in fondo parata facile per la Min Cise Sale Calagna il tiro ancora Cise Occhio alla Castellamare con Ganci che riesce ad effettuare il cross Va davanti la porta si è trovato in posizione di fuorigioco Occhio alla conclusione La salita di Terrasi Fermata ancora Terrasi a lottare ce la fa in qualche modo a servire Gio Salamisina dall'altro lato Gio davanti di Paolo Il pallone dentro e il gol di Domenico Messina Laspra passa avanti fa così 70 in carriera Il passaggio di Riccardo Tarantino Un po' fermato da Terrasi Cross di Tarantino in mezzo colpo di testa di Ganci Il mancino di Calagna parte adesso verso la porta Cise La proposta di Musso fuorigioco però dall'altro lato per Ganci Occhio a Calagna Un po' solo calcia con il sinistro Cise Occhio al retropassaggio è praticamente un regalo per Ganci E in trenare il tiro di Ganci Finisce sul fondo occasione colossale Calagna dal limite la conclusione diretta in porta Si rischiatta così Ganci il Castellamare pareggia con il suo Classe 2004 Uno a uno Verso Milana è sempre sua Servizio dietro per Calagna si gira Il mancino di Calagna si si Va serve dietro Ballone per Musso Terrasi contro Frisella arriva Va Che mette in movimento Frisella Prova il tacco Prova la conquista del calcio di rigore Ancora va Cross in mezzo si Cordina Calagna Che calcia male Dalla cuore dell'area di rigore ancora Calagna Insiste Mancino alto Super chance per Gianni Calagna Occhio alla rischio che si prende Cagliozzo C'è il tiro di Giglio Cardinale Ganci Scambiano due Cardinale a lanciare Va Da solo in fascia Deve recuperarlo Giuffrida Va si ferma A sfidare Giuffrida Rientra sul destro Sterzata sul mancino Ancora Va Giuffrida cerca anche il fallo Il tiro murato In qualche modo da Buonanno Tutti dentro Tanta confusione Secondo paolo Domenico Messina Gancia Cross da fermo Buonanno Stotti petto Sinistro di controvalzo Esce malissimo Frisella Si sgancia così Ganci Calcia Sì sì Va Sempre sul pallone Poi lo affida Ai compagni Girato tutto da Frisella Traversione dentro Ancora Tarantino Nuova alzata Cardinale Anche lui non benissimo Barbera Appoggio C'è il tiro al volo Di Morana Il passaggio per Domenico Messina Che allarga ancora Buonanno Il pallone Stava per arrivare a Messina Che si era infilato E ufficiale L'1-1 Tra Castellamare E Aspra Finisce così Il match Della Matranga Della Matranga